Buongiorno a tutti. Ieri sono usciti due vlog per quanto riguarda Casa da Limberti, un vlog sul canale di Chiara e uno sul canale di Coppia. È un vlog unico, nel senso che comunque ci raccontano che sono andati dai suoi cerini, ma come al solito poi questo vlog viene frammezzato e una parte viene caricato sul canale di Coppia, appunto, e un'altra parte sul canale di Chiara. Poi c'è stata anche la solita live serale di Davide, ma di questo ne parleremo poi. Partiamo con il vlog di Davide che si intitola Andiamo dai suoi cerini, vlog 23 marzo, 22.23. Lo troviamo fuori dal balcone, ci informa che sono dai suoi cerini, che però vedremo solo la mamma perché il papà, essendo raffreddato, insomma, si è chiuso in camera per non contagiarli. Comunque, a un certo punto, mentre parla, si guarda attentamente in video e poi ha un'epifania, nel senso dice, mamma mia che macchia rossa che ho in fronte. E adesso dice, la vedo molto bene. Dice che sembra una scottatura, insomma, io di questo fatto che lui finalmente si sia accorto di questa macchia, ne sono, non dico felice, però, insomma, rasserenata perché è da una vita che gli stanno dicendo che c'è questa macchia in fronte e lui, insomma, ha sempre, come dire, bypassato questa informazione che gli davano, insomma, quindi adesso finalmente si è reso conto che questa macchia c'è ed è anche abbastanza vistosa. cambia l'inquadratura e ce lo ritroviamo seduto in poltrona con un braccio, insomma, intorno alle spalle di sua madre e si sente chiara che con la sua voce dolce e soave dice, ciao mami! Lui, con l'affetto e la delicatezza che solo un figlio può avere, guarda sua madre, insomma, e le dice che deve farsi i baffetti. Comunque, a un certo punto, lei mostra un oggetto che è simile ad un pennarello e che pare serva per tagliare i peli, sia delle sopracciglia, del naso e quant'altro, per i superflui, insomma. Parlano un po' dei capelli di Davide, insomma, tutte e due le donne ritengono che lui debba tagliarsi i capelli perché così non sta bene e a un certo punto la sua cerina getta così la notizia bomba e cioè che la nora, Chiara, le regalerà la cucina nuova. Prende la parola Chiara e afferma che questa cucina, insomma, l'hanno già scelta. Comunque, dopo un po' la sua cerina comincia a fare saluti, saluta anche i moderatori dei canali di Chiara e di Davide e lì, insomma, Davide e Chiara cominciano a dirle saluta questo, saluta quello. La trattano veramente proprio come una bambina. Avete presente la bambina piccolina? Dai saluta, dai saluta. Ancora una volta a cambio di inquadratura e ritroviamo Davide sul balcone di casa sua. Dice che ha trovato bene sua madre, che hanno insistito, insomma, per portare la madre a Lidl, visto che la madre voleva acquistare un tostapane. Come incentivo, tra virgolette, le avevano anche detto che questo tostapane gliel'avrebbero regalato loro, però, insomma, la sua cerina non si è sentita di uscire. Però lui ha già un piano, insomma, dice che con la bella stagione cercherà di farla uscire di più, anche se fa fatica a scendere e salire le scale. Poi, vabbè, comincia a parlare del tempo, dice che fuori si sta benissimo, anche se è a maniche corte. Anche la notte, insomma, lui dorme a maniche corte e che quando si alza per fumare, quindi va fuori sul balcone, comunque si sta bene. Dice che ci sarà una cosa bella per tutti, a breve, ma non vuole fare spoiler, ma che comunque questa notte, se riesce, si metterà a fare una cosa molto bella. Io, di cose molto belle da fare di notte? Oddio, sì, però non mi sembra che facciano questa cosa, quindi deve essere tutt'altro. Comunque, questa cosa bella sarà per tutti quanti, per tutti quanti noi, insomma. Dice che è una cosa che vuole fare da tanto e che è una cosa fattibile solo la notte e qua, sinceramente, mi riviene il dubbio, insomma, di che starà parlando? Vabbè, comunque, dentro questa sorpresa, poi pare ci sia un'altra sorpresa, quindi ci saranno matriosche di sorprese a breve, quindi teniamoci pronti. E passiamo a questo punto al video, al vlog di Chiara. Vediamo un attimino che cosa dice lei. Il vlog si intitola Abbiamo comprato la cuscina ai socerini e svuota la spesa Aldi, vlog del 22 barra 23 3 2023, quindi comunque un vlog fatto in diverse giornate. Comincia questo vlog che la vediamo in macchina, con i capelli sciolti, insomma, che saluta e dice che sono fermi dal benzinaio e ci fa vedere che il marito sta pagando per, appunto, fare il pieno, il pieno, per mettere benzina. Lo inquadra di fianco e si vede che la cucina di Chiara a Davide piace parecchio, insomma. Come a solito parte il, ma come sei bello, amore, è la classica risposta, anche tu sei bellissima. Lui comincia a mettere la benzina all'auto, lei rincara la dose dicendo che è sexy. Ancora, amore, quanto sei bello, che non si capisce se vuole convincere se stessa o lui, insomma. E parte ancora, un amore, sei bellissimo. A un certo punto questa cosa diventa anche ridicola, nel senso gliel'hai detto una volta, basta, cioè, poi il troppo, come si può dire, stroppia. E comunque parte ancora, un amore, sei bellissimo. Lui risponde anche tu e poi fa partire un urlo, un falsetto che sinceramente neanche è un uca strangolata. Fortunatamente cambia l'inquadratura e sono a fare la spesa, insomma, e mettono nel carrello delle banane, dell'insalata in busta, delle zucchine, carote, eccetera. E mentre Davide guarda interessato alla salsa dei pomodori, si scambiano ancora dei bacetti. Comunque, continuano a fare questa spesa, dopodiché cambio inquadratura e la ritroviamo, ritroviamo Chiara, praticamente, a casa, impigiamata, seduta al tavolo, che dice, appunto, racconta quando è stata male, che ha avuto quell'attacco di panico e dice che adesso sta meglio e vuole fare, insomma, la vuota spesa perché dice che è un vlog, un genere di video, insomma, che piace molto. E comunque comincia a farci vedere cosa ha comprato da Aldi. E visto che nel video spesa, insomma, precedente, cioè quello che abbiamo visto pochi secondi fa che ammetteva nel carrello della spesa frutta e verdura, qui invece ci fa vedere le porcellosità, insomma. E comincia a far vedere un dolce di Pasqua con del pistacchio ricoperto di cioccolato che dice che è per la figlia e che le donerà anche l'uovo con il cioccolato fondente della Kinder. Poi ci fa vedere un ricambio del mocio che veramente ci azzecca tantissimo con le cose che ha acquistato al Aldi, però, insomma, anche questo faceva parte della spesa. Poi delle patatine in busta a forma di anello al gusto panna acida, dei budini alla vaniglia con sopra la panna che, a quanto pare, piacciono tanto e poi costano anche poco, insomma, e quindi vanno assolutamente acquistati. Ne ha presi sei. E poi ha acquistato una confezione di merendine particolari, insomma, che sono tipo a forma di coppette, queste merendine con... al centro deve essere il ripieno di cioccolato, insomma, e dice che userà questo pacchetto, insomma, di merendine con altre cose per fare dei video assaggi sul canale del marito. Io, secondo me, questi sono i classici video assaggi che fa Davide, nel senso che a un certo punto della sua live si alza e va a mangiare, insomma, e prende queste merendine e quant'altro. Sempre che abbia a disposizione la chiave che non è detto, insomma, la famosa chiave del famoso cassetto in cui ci sono le porcellosità. Poi ci fa vedere, insomma, le patatine a forma di orsetto che sono buonissime, i wafer acquistato, poi delle salviette per la pulizia degli occhiali, la carta igienica che, giustamente, insomma, dopo tutta sta roba, i sacchetti per la raccolta differenziata e le golie Acti Plus. Queste sono anche per Luciana, perché, insomma, ha tosse continua, così le si ferma e può cantare in tutta serenità, insomma. Cambio inquadratura di nuovo e la ritroviamo, insomma, che ecco la sua cerina, sono vicine vicine, lei ha un braccio sulla sua spalla, insomma, e le dice che le vuole tanto bene e la sua cerina risponde anche io. Lei dice anche che è bella e io a un certo punto penso che se comincia a dirle che è pure sexy, io chiudo baracche e burattini e la finisco qua, insomma. Nel frattempo che lei, insomma, dice esterna il suo sentimento alla suocera, pare che Davide Ravani in un tegame, perché a un certo punto, insomma, Chiara gli dice che sta sempre a mangiare, insomma, pare che lì, anche lì, insomma, si sia dato da fare. Ma lui contesta invece, vuole soltanto contestare il formato della pasta scelto dalla madre per fare la carbonara. Bisogna dire che, insomma, ormai per lui la cucina non ha più segreti. Li ritroviamo in macchina, lei ha i capelli al vento, dice che appunto sono andati dai socerini. Lei è vestita col giubbottino similchiodorosa, ha la canotta rosa, i pantaloni rosa e ha le scarpe invece della Ferragni, quelle color pastello. Praticamente un confetto. Comunque, noto che sulle labbra superiori ha qualche cosa che non va, tipo un herpes, uno sfogo, insomma, qualcosina. Scusatemi, io so che alle volte, insomma, vado a guardare anche particolari più assurdi, però, insomma, ci ho fatto caso e volevo condividere questa cosa con voi. Mentre guida, Davide prende la borsa di Chiara e, insomma, così abbiamo completo il suo outfit. La borsa è quella marrone con tutti i topolini stampati, che non ci azzecca niente con tutto ciò che porta addosso, ma, insomma, se a lei piace, va benissimo così. Per finire, la ritroviamo seduta sul letto con un pigiamino rosa e una coda fatta praticamente sulla testa, molto alta questa coda, e ancora una volta dice che sono andati dalla suocera, che la suocera ha scelto la cucina e l'hanno comprata. E dice che finalmente i suocerini avranno la cucina nuova, e che poi lei ce la farà vedere. Dopodiché ci informa che la cosa che faranno anche loro è di comunque acquistare la cucina, oltre alla cucina, quindi la cucina di casa loro, anche di prendere una macchina non nuova, però, insomma, usata, però la prenderanno dal concessionario. Avranno vinto un super enalotto, non lo so, cioè... a quanto pare spendono e spandono, beati loro, io oserei dire. Comunque, poi c'è stata anche la live di Davide che io non ho visto, vi dico sinceramente, però, schippando, ho visto che a un certo punto Chiara ha preso possesso di questa live ed ero curiosa di sapere il perché. Perché Chiara ha, diciamo, defenestrato il marito dalla live e si è messa lei? Perché ha comprato tutti i trucchi della Ferragni che sono usciti. Praticamente ha detto che si è messa lì, che sapeva che dovevano uscire questi trucchi della Ferragni e che quindi, scattata la mezzanotte, lei e il suo ditino si sono messi in moto e hanno acquistato tutto, ma proprio tutto ciò che era di nuovo per quanto riguarda appunto i trucchi della Ferragni. Dice che ha acquistato rateizzando la spesa e che quindi, insomma, lei non sentirà questo, anche se queste cose costicchiano, non sentirà il peso di doverla pagare tutta insieme. E a questo punto Luciana molto saggiamente interviene e dice la spesa è uguale, è uguale, sbatti via dei soldi ugualmente, anzi spendi di più perché prendi delle porcherie. Quindi voglio dire, ma anche Luciana trova da ridire sulle spese della figlia e io direi che visto che tu questi trucchi non li userai mai, io capisco voler fare dei video che poi comunque non fai, cioè non si è mai visto che faccia dei video, quantomeno ultimamente, dei video trucchi o quant'altro, cioè quindi non so fino a che punto lei non si trucca e c'è da dire anche che i trucchi hanno una scadenza come tutto, insomma, nel senso che comunque c'è da stare attenti a mettere qualcosa che potrebbe essere scaduto sulla pelle perché può fare comunque male. Quindi che tu spendi dei soldi anche abbastanza, cioè anche abbastanza soldi per comprare delle cose che non usi, io non so fino a che punto, ma comunque. Dopodiché lancia una frecciatina a Faith perché, anche senza nominarla, perché dice che Faith ha aperto una live dove si parlava, dove non si parlava di lei, scusate, con molti ospiti, però c'erano soltanto 300 persone a seguirla. Io adesso, Chiara, io vorrei dirti una cosa, può essere che in quel momento c'erano soltanto 300 persone a sentirla, però se te adesso vai a guardare questa live, praticamente sono arrivati a 6133 visualizzazioni, che direi sono molti di più di quello che hai fatto tu, di quelli che hai fatto tu in alcune live buasta. Quindi voglio dire, può essere che lì sotto ce n'erano 300, ma comunque anche non parlando di te, per quanto riguarda le visualizzazioni, ti ha superato. Quindi non ha fatto una live buasta, fra virgolette, non ha fatto una live parlando di Chiara ad Alessandro, però le visualizzazioni ci sono state, ci sono. Quindi voglio dire, chapeau a Faith. E questo era tutto, io vi ringrazio per avermi ascoltata, se volete lasciatemi un like, se volete lasciatemi dei commenti, se volete iscrivetevi al canale. Ciao a tutti e buona giornata.